ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi video nostalgico vi parlerò vi confiderò i miei tre giocatori preferiti in assoluto del Milan partendo dal presupposto che essendo io nato nel 92 e quindi avendo 29 anni parlerò dei calciatori che ho potuto vedere che ho potuto ammirare quindi per dire i Gullit, i Van Basten, i Baresi non li nominerò pur essendo a conoscenza pur avendoli visionati in seguito però non li ho per così dire vissuti e quindi vi parlerò di quelli ripeto che ho potuto ammirare che ho potuto veder giocare e per cui ho potuto ampiamente esultare prima di cominciare ragazzi però vi prego di lasciare un like al video iscrivetevi al canale attivate la campanella in descrizione tutti i link dei profili social di milan inside e ricordatevi sempre il sito internet www.acmilaninside.com allora ragazzi la nostalgia in questo video sarà tanta 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 a qualcuno potrebbe scappare una lacrimuccia vi parlerò di tre giocatori tre giocatori uno per ruolo difensore centrocampista dove intesa pure la tre quarti è un attaccante che hanno particolarmente fatto battere il mio cuore e che ci hanno come ho detto prima ci hanno permesso di godere di vincere di esultare tanto ci hanno permesso di esultare tanti 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 trofei alzati spesso dal mio primo calciatore preferito che ora possiamo tifare per così dire in in un altro ambito non più con la casacca addosso ma in giacca e cravatta ed è Paolo Paolo Maldini capitano storico numero 3 perché entra in questa top 3 dei miei personalissimi giocatori preferiti perché perché Maldini credo rappresenti in assoluto e non me ne vogliano i più grandi di età il miglior difensore della storia del calcio sappiamo bene che lui nasce e il suo ruolo principale era il terzino terzino sinistro nonostante fosse destro o per meglio dire ambidestro ma usava il sinistro alla pari dell'altro piede e poi utilizzato e si è disimpegnato greciamente anche da centrale Paolo abbiamo visto ad alzare tanti tanti trofei però quello che lo ha sempre contraddistinto credo fosse l'eleganza l'eleganza dentro e fuori dal campo nonostante un carattere forte determinato che lo ha portato anche a scontrarsi a botte con le tifoserie organizzate però quello che mi rimane impresso di Maldini è un retroscena è una chicca relativa alla finale persa di Champions con Liverpool 3 a 0 3 a 3 per 6 rigori dove praticamente lui l'indomani davvero capitano raccolse i cocci di una squadra praticamente a pezzi chiamando uno a uno ogni singolo giocatore della rosa e promettendo di fatti una sorta di per così dire vendetta che puntualmente arrivò nel 2007 e che vide in Milan vincere la Champions il fatto che ora sia ancora strettamente legato a Milan attenua un po' la sua mancanza e il suo ritiro confidando anche del fatto che il suo essere campione la sua classe già si è cominciata a vedere ma si vedrà anche da dirigente il secondo nome il secondo nome il centrocampista ripeto dove è intesa anche la tre quarti è Riccardo Isexos Dos Santos Leite più con me ne conosciuto come Cacà smocchi in bianco come diceva Pelle Gatti il quale arrivato con occhiali e borsetta sembrava quasi un secchioncello per così dire ma che fin dalla prima partita in quella Ancona Milan 0-2 e ricordatevi di questa partita perché se ricordate il marcatore che fece doppietta è un piccolo indizio per il terzo Ricchi del quale ricordiamo forse più facilmente le sgroppate le sgroppate palla al piede famosissima quella col fenerbace pallone d'oro incarnava il trequartista perfetto che sapeva sia segnare sia assistere era anche dotato di una discreta fisicità abbinata però a una tecnica a una velocità più che velocità di base è una progressione ecco fantastiche l'anno del pallone d'oro era era un extraterrestre e poi quelle due partite col Manchester tra andate e ritorno tre gol in due partite veramente diedero una grossa mano per la qualificazione per la finale che poi andammo a vingere rivendicandoci su Liverpool Ricchi numero 22 io avevo sempre preso il numero 22 diciamo nelle squadre sulle magliette che prendevo del Milan in quel periodo era sempre era sempre il suo numero presente addirittura quando mi uscì a doppione nelle figurine l'ho misi attaccato al retro del telefonino di allora e andavo letteralmente pazzo per Ricchi che poi tornò anche per amore del Milan sia pure in una fase finale di carriera però al Milan chi passa da Milan si innamora e prima o poi torna e l'ultimo l'indizio si collega a un ucraino che fece doppietta con la partita che è Andriy Shevchenko il quale ha fatto una caterba di gol tanti 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 pallone d'oro anche lui ma ciò che era strepitoso era il fatto che ingarnasse in un solo giocatore la possibilità di sia, ecco, ingarnava in un singolo calciatore sia la prima che la seconda punta aveva tutto fisicità, corsa, tecnica, destro, sinistro colpo di testa acrobazie caccia di punizione stato rigorista tutto, era completo quando se ne andò fu un colpo al cuore ed era stato più più che lui a volersene andare era stato un po' pressato allora dalla moglie che voleva che i figli imparassero l'inglese ecco, perché se ne andò a Londra pure lui poi tornò sempre in una fase calante però noi ci ricordiamo il primo sceva, quello con il numero 7 che di fatti non ha più avuto a parte Pato che è un un rimpianto immenso è stato un campione assoluto ne cito 3 semplicemente per fare una top 3 ma sarebbero da fare una lista forse top 10 top 20 con questo video di nostalgie ragazzi spero di avervi fatto rivivere bei momenti io vi saluto vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti di Milan Insight ricordatevi like iscrizione tutti i link dei social ci vediamo alla prossima sempre forza Milan ragazzi sempre ciao 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 ciao